Benvenuti in questo mio nuovo video, andiamo a vedere dove trovare tutte le posizioni dei barattoli di spray Prima posizione si trova dentro il tunnel, si troverà esattamente qui Seconda posizione invece si trova dove c'è l'ombrello Noi scendiamo sotto e guardate dove si troverà, si troverà esattamente di qua Perfetto, terza posizione invece si trova vicino a Palmetto dove c'è la discarica Guardate dove si troverà, si troverà qui Perfetto, ok Quarta posizione si trova dove c'è la discoteca, vicino alle tende, guardate dove si troverà esattamente qui Mentre quinta posizione si troverà esattamente qua Guardate, ok E bisognerà trovare 5 barattoli per completare la sfida Comunque questo video finisce qua, spero che ti sia piaciuto Mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite Lascia un mi piace per supportarmi, commenta e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzuoli Ciao ragazzuoli Ciao ragazzuoli Ciao ragazzuoli